Come era stato annunciato dal presidente della FIGC Giancarlo Abete, sono stati definiti e firmati dal procuratore federale Stefano Palazzi i deferimenti che si riferiscono alla prima parte dell'inchiesta giudiziaria della procura di Cremona per il calcio scommesse. Nella giornata di domani, mercoledì, saranno effettuate le notifiche alle parti e la FIGC renderà noto il contenuto del provvedimento. E in attesa di conoscere i nomi dei club e dei tesserati, sono già stati resi noti dalla stessa FIGC, alcuni numeri presi in considerazione dai deferimenti della prima tranche. 33 partite, così suddivise, 29 del campionato di Serie B di varie stagioni sportive, due di differenti edizioni della Coppa Italia Maggiore e due della Coppa Italia della Lega Pro nella stagione sportiva 2010-2011. Ed ancora 22 società, 61 persone fisiche, tra cui 52 calciatori in attività al momento delle rispettive contestazioni, due calciatori non in attività al momento delle rispettive contestazioni, quattro dirigenti e collaboratori di società e tre iscritti all'albo dei tecnici. In attesa, alla finestra per conoscere se ci sarà la chiamata nuovamente in causa dal procuratore della FIGC Palazzi, c'è anche l'Atalanta. Questa è una fase in cui si opera sulla base della documentazione pervenuta dalla procura di Cremona, come ha confermato Giancarlo Abete. Entro la metà del mese ci sarà poi la possibilità di avere la documentazione che viene dalla procura di Bari e da quella di Napoli. Ciò attiverà un ulteriore iter. Il grosso dei club di Serie A invece, compresi quelli citati dai superpentiti Carlo Gervasoni e Filippo Carobbio, rinanzi ai magistrati di Cremona guidati dal PM di Martino, ci riferiamo in particolare a Lecce, Bari, Siena, Genoa, Chievo e Lazio, dovrebbe quindi slittare nel secondo troncone di inchiesta. Si aspetta il termine del campionato e in ottica futura si vuole evitare che il processo si sovrapponga mediaticamente agli europei di calcio. Nel frattempo il procuratore federale Stefano Palazzi dovrà anche sentire il presidente del Siena, Massimo Mezzaroma, la cui audizione è slittata a metà maggio per motivi di salute e l'ex allenatore del Siena, Antonio Conte, ora campione d'Italia con la Juventus, che probabilmente sarà ascoltato dopo la finale di Coppa Italia con il Napoli, prevista per il 20 maggio. L'eccezione però a livello di Serie A, scrive la Gazzetta dello Sport, riguarderebbe Atalanta e Novara, che potrebbero essere citate in giudizio già con i deferimenti previsti per domani, il tutto per la condotta tenuta da alcuni dei loro tesserati nel corso della passata stagione di Serie B. E proprio la classifica del campionato cadetto rischia di essere pesantemente riscritta con penalizzazioni afflittive. A rischiare in particolare il deferimento sarebbero 15 squadre, stando sempre a quanto pubblicato e tra queste l'Albino Leffe. Oltre alla Celeste tremano Ascoli, Bari, Grosseto, Modena, Padova, Verona, Pescara, Livorno, Regina e Varese e forse anche Crotone, Empoli, Sassuolo e Torino. Domani, come detto, con i deferimenti si avrà una maggiore chiarezza del quadro accusatorio.